Lo Ziz Music Festival è un festival di musica internazionale che si svolgerà a Villa Filippina il 16 e il 17 giugno. All'interno del festival saranno presenti artisti internazionali, quindi avremo artisti che vengono da Manchester, da Barcellona, dalla Polonia, fino ad artisti italiani. Tutto fa parte della musica indie rock, quindi abbiamo fatto una selezione di artisti, indipendenti soprattutto, che faranno parte di questo festival. Headliner del 17 giugno saranno i Marlene Kunze, che sono conosciuti ai più. Questo festival è inserito nell'ambito di Palermo Capitale della Cultura 2018? Sì, esattamente, proprio perché il festival abbraccia l'arte a 360 gradi, la musica, e soprattutto si eleva insieme alle altre capitali europee, proprio per rappresentare la musica e tutto ciò che sta attorno al mondo dell'arte. E pensiamo che Palermo Capitale della Cultura sia proprio l'occasione ottima per far sì che questo possa risaltare. Sono qui in qualità di rappresentante delle Witches Are Back, siamo un gruppo di donne, artiste, musiciste, che organizzano e cercano di promuovere l'arte al femminile attraverso degli eventi in cui ci inseriamo. Lo Ziz Festival ci ha appunto chiamate a rappresentare l'arte qui a Palermo, quindi porteremo delle artiste che fanno parte della nostra rete sia da tutta Europa che soprattutto chiamate a partecipare qui a Palermo, perché uno dei punti focali di quello che vogliamo rappresentare appunto è il coinvolgimento degli artisti locali e la connessione che si ha tra gli artisti locali e gli artisti esteri. Qualche esempio di artista, di opere che porterete allo Ziz Festival? Allora ci saranno dall'illustrazione al ricalco a fuoco di Irene Purpura per esempio, la pittura d'olio su una tecnica basata su Picasso di Giorgia Di Paola, ha delle performance audiovisual di Ori e Bollino con il suo progetto Light Circles, poi ci sarà anche un'altra performance di danza e di video che saranno tutte disposte all'interno dei locali interni della Villa Filippina, mentre invece appunto l'esposizione d'arte sarà lungo il porticato in esterna. All'interno di Villa Filippina c'è un planetario e sarà anche usato per una performance? Sì, perfettamente, infatti verrà ricreato tutta un'ambientazione video dove verrà mappata la cupola del planetario stesso. La performance sarà audiovisiva appunto, audio in quanto un'estemporanea ambiente di suoni e noise che andranno poi ad essere mixati live appunto con questa performance video in tutta la cupola del planetario. Grazie